Dobbiamo intervenire in maniera forte, sia attraverso gli strumenti di difesa passiva, ma sostanzialmente per il gelo, come per la siccità, come per altre problematiche, come per la grandina e anche con la difesa attiva. Quindi penso a impianti antibrina, penso a coperture adesso che riescono a garantire 3 o 4 gradi di più rispetto alla temperatura che si registra in quel momento sotto le coperture. Quindi noi dobbiamo un po' rivedere tutto quello che è il sistema complessivo di gestione del rischio perché questo accentuarsi di eventi estremi fa sì che se andiamo avanti così, soltanto con la difesa passiva, cioè con le assicurazioni, attualmente coadiuvane anche dai fondi mutualistici, però non è più in grado di dare risposta perché si scaricano troppe tensioni tutto sul risarcimento. Quindi dobbiamo prevenire possibilmente i danni laddove è possibile. Stiamo dando un ulteriore impulso a quello che abbiamo fatto, è un lavoro che è partito 20 anni fa di innovazione, di crescita, perché ricordo che il primo elemento per rendere sostenibile il sistema è che si assicurano sempre di più un numero più ampio di agricoltori, ma soprattutto più superfici, perché poi il numero degli agricoltori conta poco, quello che conta sono valori e superfici assicurati. È un percorso, basti pensare che nel 2005 assicuravamo un miliardo di euro, oggi come sistema abbiamo superato quest'anno i 9 miliardi di euro, una crescita costante, però dobbiamo ancora di più accelerare questo percorso perché comunque siamo molto concentrati al nord nei valori assicurati e nelle superfici assicurate e molto di meno invece al centro e soprattutto al sud. Quindi per riequilibrare il sistema dobbiamo espandere coloro che si assicurano, abbiamo portato a casa questo risultato molto importante a partire dal 1 gennaio 2023, che con la nuova PAC che uscirà ci sarà anche sul primo pilastro una dotazione finanziaria per sostenere le assicurazioni, in particolare la parte catastrofale del rischio e quindi questo potrà portare sostanzialmente a far sì che lo strumento diventi fruibile per tutti gli agricoltori italiani. Il sogno vero è che dobbiamo arrivare ad avere degli strumenti di gestione del rischio a cui aderiscono tutti gli agricoltori italiani. Allora a quel momento il sistema anche assicurativo e dei fondi mutualistici potrà raggiungere l'obiettivo di essere sostenibile, cioè avere un giusto costo per l'agricoltore e far sì che il sistema delle compagnie o dei fondi ogni anno non vada in una posizione di perdita.